Erano le prime luci dell'alba del 3 agosto 2011, quando Martina Rossi perse la vita a Palma di Majorca, precipitando dal balcone della Camera 609 dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Majorca, dove alloggiavano due giovani di Castiglion Fibocchi, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Da quella drammatica notte sono già trascorsi dieci anni e da allora i genitori della ragazza, Bruno Rossi e Franca Murialdo, cercano verità e giustizia. La parola fine sul caso potrebbe essere scritta dalla Cassazione il prossimo 26 agosto, giorno in cui la Suprema Corte tornerà a valutare il caso dopo il ricorso presentato dai due aretini. Nel corso di questi anni, infatti, si sono già consumati tre gradi di giudizio ed un appello bis, l'ultima sentenza lo scorso 28 aprile, quando la Corte d'Appello di Firenze aveva condannato a tre anni di carcere tra i due imputati con l'accusa di tentata violenza sessuale. La studentessa, secondo i giudici, sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro da parte dei due aretini. Loro si sono sempre proclamati innocenti. La prescrizione scatterà ad ottobre, insomma, sarà ancora una volta una vera e propria corsa contro il tempo.